Buonasera, buonasera a tutti per questa serata di trasmissioni su Libri.tv, oggi 25 gennaio 2013, abbiamo un palinsesto bello ricco, soprattutto di argomenti che spero sviluppi in un certo dibattito, partiamo subito con la virgola del direttore e cerchiamo di farla volante. Questa sera è un articolo di Francesco Pullia, ex dirigente radicale, comparso il 22 gennaio scorso sull'Opinione, è un articolo a commento delle polemiche suscitate dalla vicenda dell'offerta fatta da storace radicali di un accordo elettorale tecnico per le prossime regionali del Lazio, accordo definito taxi, regionali per i quali il PD negando ogni criterio meritocratico, non ha voluto accettare la ricandidatura di Rocco Berardo e Giuseppe Rosso di Vita, consiglieri regionali uscenti, che hanno avuto il merito di aver scoperchiato le allegre gestioni finanziarie del Consiglio regionale del Lazio. Niente eccezione per loro rispetto alla regola di candidati tutti nuovi di Zecca, mentre i consiglieri uscenti del PD troveranno un'altra comoda sistemazione. Le polemiche sono state molte, arrivativamente a questo taxi, questo accordo tecnico che chiameremo taxi, sono state molte effettivamente anche nel mondo radicale. Dirigenti e militanti si sono divisi sull'opportunità o meno di congere questa offerta da parte di Francesco Storace, offerta poi rimasta irrealizzata, si dice, per motivi tecnici. Francesco Pullia molto fieramente si schiera a favore dell'intenzione pannelliana, richiamandosi ad un'antica tradizione radicale che non si è mai fatta intimorire dall'influenza dei pregiudizi che l'opinione pubblica nella politica degli anni 70 ha manifestato nei confronti di quello che si definiva il partito della continuità, cioè il movimento sociale. Correttamente Pullia ricostruisce le aperture al dialogo nei confronti dei fascisti di quei tempi, le partecipazioni di pannella dei commizi del MSI, le tutele legali offerte dai radicali De Cataldo e Melilini ad imputati di destra ma anche di sinistra. In pratica la posizione libertaria, liberale, di difesa delle minoranze che all'epoca erano definite praticamente fuori dall'arco parlamentare. Tutto bello e corretto come ricostruzione, ma a mio parere non è più attuale. Per reggersi a paradini dell'opposizione, dell'opposizione al fascismo, dell'antifascismo evocato da Francesco Pullia in relazione all'episodio storace, occorrerebbe perlomeno il fascista. Fascista inteso con quell'accezione di militante, in tal caso leader politico emarginato politicamente e schifato dall'istituzione partitocratica, in uno stato catto comunista sorto sul mito della resistenza antifascista. Chi sarebbe oggi il fascista? Storace? Storace ex ministro della salute? Storace ex presidente della commissione di vigilanza della RAI? Storace ex presidente della regione Lazio? Storace sostenitore della Polverini, fatta cadere, così citano le croniche giustamente, proprio dai due radicali Berardo e Rosso di Vita? Storace sostenitore della Polverini, avversaria di Emma Bonino nelle ultime elezioni regionali nel Lazio? No, non mi pare sia possibile parlare di storace con un fascista con l'accezione che questo termine aveva 30 anni fa. Quei fascisti, quelli di avanguardia nazionale, quelli che frequentavano la Calarenzia, quelli del fronte della gioventù, oggi sono stati direi da un bel po' di anni assimilati al sistema della partitocrazia. Aleman non è un esempio per tutti, assimilati quindi al sistema della partitocrazia italica. Ciò lo si deve a due persone, a mio parere è l'una Gianfranco Fini, Delfino di Almirante, che ha rotto con un certo passato politico, non certo in modo indolore rispetto a tutta l'area di riferimento di quella militanza politica. L'altro Silvio Berlusconi, che ha puntellato la sua presenza istituzionale proprio con l'appoggio del nuovo grande contenitore della destra di quei tempi, che fu A.N. Poi vi furono evoluzioni, divisioni, scissioni, marumori, ma di fatto il fascista, Reietto, come i cani in chiesa, oggi non è più una figura retorica proponibile. Quindi senza il martire non c'è neanche il salvatore del martire, politicamente parlando. Sempre nell'articolo di Pullia, nello sforzo dialettico senza mezze misure, volto a resumare episodi di atti politici scandalosi, radicali, che giustificano l'ipotesi taxi di Sorace, si rievoca la candidatura e l'elezione di Ilona Staller. Anche questo mi sembra un esempio decontestualizzato e incommensurabile con l'episodio Sorace e il suo taxi. Ilona Staller, che proveniva da ambienti distanti dalla politica, era portatrice per vita vissuta sulla propria pelle di istanze libertarie contro la sessofobia e il proibizionismo da essa generato. Quella fu una candidatura certo coraggiosa e contro un certo ipocrita moralismo dell'italietta cattopartitocratica, una vera scommessa a cui non credevano neanche i radicali a volte, alcuni di essi almeno, e che invece fu vincente e fu seguita da una condotta della Staller come deputata radicale veramente impeccabile. Storace è altro, lo è stato e rispetto al patrimonio politico e culturale radicale non c'è nulla in comune. Si registra solo una storica e mitica sua dichiarazione in relazioni radicali in cui parlò di genocidio culturale quando era Presidente della Commissione di Vigilanza della RAI. Meritorio? Ma secondo me un po' pochino, visto che non c'è altro, soprattutto un po' pochino per non prevedere e non accettare con rispetto le preoccupazioni radicali scatorite, anche in polemiche, dalla notizia dell'ipotesi di corsa in taxi con Storace per queste regionali del Lazio. La corsa in taxi si poteva anche fare, si sarebbe potuta fare, ma Storace non è certo un emarginato politico come i fascisti degli anni 70. rapidamente questo è stato quello che volevo con voi condividere come riflessione, spero che vi siano anche delle riflessioni che poi potrete postare come commenti a questo video. Vado a ringraziare ovviamente la regia di Donato Volpicella. LibriTV vi ricordo che è un'associazione che si autofinanza e sarebbe utile che ci aiutasse con una iscrizione che non costa molto, tutto quanto potete trovare il modo per iscriversi, lo vedete tutto scritto sul sito, c'è un apposito link. E passerei a illustrarvi il paninsesto che è abbastanza interessante, è un po' una corsa contro il tempo questa sera. Alle 20.40, quindi fra pochi minuti, lo spazio Certi Diritti, cambiare orientamento sessuale si può, conversazione con Alida Bismara, con ospite Andrea che racconterà la sua testimonianza, a cura di Riccardo Cristiano dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Alle 21.20, lo spazio Life, Etica dell'Ambiente e Voci e Prospettive, intervista al curatore del libro Matteo Andreozzi, a cura appunto di Giovanna Devedac, lo spazio Life, consueto, Giovanna Devedac, segretario dell'Associazione Radicale Parte in Causa, l'Associazione Radicale Antispecista. Alle 22, a tavola con i libri, le note di lettura di Giancarlo Calciolari, L'uomo di Nessun Colore, il titolo del libro che si commenterà oggi, che Giancarlo commenterà oggi, il libro di Christine Dalbonne, via con l'editore, La vera storia di uno smemorato di Collegno. Alle 22.25, la striscia filosofica, politici sfigurati e scienze cognitive e politica, ospite di Leonardo Caffo, che appunto cura questa trasmissione, Domenica Bruni, docente di psicologia evoluzionistica a Messina, pubblicato questo libro con Mimesis edizioni e tutto un altro libro che si chiama Politici sfigurati. Alle 22.55, la leggera euforia, lo spazio e le notizie dedicate agli approfondimenti dal mondo antiproibizionista, a cura di Claudia Sterzi, segretario dell'ARA, l'Associazione Radicale Antiproibizionista. Prevediamo alle 23.25, se non ci stanno problemi, speriamo che non ce ne siano, la chiusura delle trasmissioni. Quindi vi auguro e vi esorto a seguire i programmi di Libri.tv, grazie e a presto. Restituisco la linea alla regia.